Nella nuova casa in affitto dello stadio Braglia debutta davanti al pubblico amico il Carpi entusiasmo gelato da Stefan Jovetic alla 31esima minuto secondo gol in campionato con la maglia nera azzurra per il Montenegrino il Carpi ci crede e trova il gol del pareggio con i volti noti della promozione Letizia, Lasagna e il tocco decisivo di Totò Di Gaudio che all'81esimo fa sognare il popolo bianco-rosso ma dopo un contropiede e rigore guadagnato da Guarin a contatto con Gabriel Silva risolve sempre lui Stefan Jovetic, tre gol in due partite inter a punteggio pieno